ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodietto dedicato ai vostri video ebbene sì un'altra puntatina dedicata a voi che state guardando e le vostre collezioni di orologi dovete fare un video inquadrando la vostra collezione o parte della vostra collezione anche pochi orologi pochissimi con il vostro bel telefonino inquadrate orizzontalmente parlate spiegate non state in silenzio e poi inviate alla mia email il link di will transfer.com insomma sembra così complicato ma non lo è voi fate seguite le istruzioni oggi avremo una serie di video vediamo un pochino cosa c'è cosa non c'è ma prima di mostrarveli devo obbligatoriamente mostrarvi l'orologio del giorno che è questo stupendissimo long in legend diver nella misura da 39 mm ultima acquisizione della mia collezione e nonché orologio che nella sua veste da 39 mm appunto dal meglio di sé con questo braccialo a chicchi di riso questa compattezza le due corone è la bag interna che è molto utile utilissima quasi indispensabile non se potrebbe fare a meno io sono contento perché mi piace un bello orologio che rappresenta il bello il bello del bello che c'è nel mondo adesso bando ai discorsi come al solito inutili e ci guardiamo i vostri video iniziamo col primo è indice e fuoco ciao a tutti i ragazzi sono michael dal friuli ma no michael dal friuli col passamontagna ha messo il tondino per farsi vedere perché è sicuramente egocentrico edonista tutto quello che inizia con l'ai è stronzo e poi c'è la tovaglia con le paperelle la tovaglia con le paperelle non se ne poteva fare a meno proprio veramente in antitesi al passamontagna violento cattivo per mostrare le miei collezioni di orologi come mai posso porto un passamontagna è perché non volevo mostrare la mia faccia in realtà sono ma se non volevi mostrare la tua faccia non me non metti il circoletto non ci mette niente fanno fai come fanno gli altri non si vede la faccia non è che metti il circoletto però non vuoi far vedere la faccia allora fai vedere ma non ci siamo proprio ma con chi ho a che fare io sul tuo canale telegram in realtà magari mi conosci anche un postato una foto con questo passamontagna in orologio basta iniziamo con il video e allora abbiamo questi due rocci fake di cui ma non simile certi lo spaccherebbero con un martello ma che roba è ma vabbè abbiamo questo feicone della orlex orlex una roba brutta non c'è neanche l'italia sulla cartina che c'è qua c'è tutto schifo mettiamoli via qui abbiamo questo citizen di mia nonna ora lei non c'è più lo tengo di ricordo è un po rovinato qua non so se si vede credo l'abbiamo messo su questo cinturino questo bracciale l'orologiaio e spero abbia fallito perché non puoi fare una roba del genere cioè sei davvero schifoso se fai una roba simile abbiamo questi due siti si citizen questi due casio classici quarzoni funzionano benissimo non ce n'è uno che tiene l'ora uguale all'altro funzionano benissimo 15 e 48 15 e 49 date una riguagliata luce che non che tanto poi abbiamo questo braille di mia madre mi dice che l'ha comprato perché facciamo una pubblicità in tv don't touch my brain una cosa simile uso anch'io un quadrante poco leggibile forse perché da cambiare il il vetro il plexi non lo so ma che guanti c'hai poi abbiamo questo qua che è un regalo della mia comunione la batteria non l'ho mai cambiata funziona da quel giorno la e chissà quanto è passato si può anche illuminare e c'è anche l'omino che balla questo qua quando mostravi le ragazze le conquistavi tutte quando eri piccola poi abbiamo questo princeps di mio padre mamma mia come brutto l'ho usato per tipo tutte le medie tutte le superiori la tale avevo messo un bracciale dorato e argentato però adesso non voglio usare così tanto era troppo pacchiano ora ne ho comprato uno ancora più pacchiano questo l'ho comprato non è di mio padre di nessuno che questo bulova che è troppo bello tutto dorato è fantastico poi abbiamo questo citizen che è di mio nonno ora è felici l'ho fatto revisionare perché non funzionava adesso lo metto spesso per ricordarmi di mio nonno anche se in realtà è vivo mio nonno però mi piace un sacco ho messo questo bagno milanese anche se non combasce tanto bene però piace a me quindi questo lanco a carica manuale questo era anche questo qua di mio nonno ora è mio è la città di minuti non so più questo lanco cosa dire di questo lanco una storia divertente a me non è non so che ridere come cosa perché mio nonno quando ero giovane lavoravo in svizzera come molte persone credo e faceva il giardiniere e un bel giorno era a tagliare l'erba fuori dalla fabbrica della lanco e qualcuno non so chi un lavoratore un dipendente o il capo è uscito e ha regalato questo lanco mio nonno e è l'altra persona che lavoravano con lui quindi cavolo perché mi sono chiesto perché non lavorava fuori dalla fabbrica della rolex se aveva un bel rolex un bel top invece no ho capito però c'è anche un lanco che è uscito direttamente dalla fabbrica da lì da dove erano di mano in mano è al suo perché c'è una storia tua particolare proprio direttamente dal produttore al consumatore come si suol dire e viva il nonno poi abbiamo questo citizen pro master full loom colpo a tua se l'ho comprato non mi piace tanto questo cinturino in plastica perché molto dura mi dà fastidio poverino avevo comprato una di silicone morbido non so se silicone o che materiale giallo in omage a davide a te però lo può si può usare solamente d'estate quello non si può usare sempre soprattutto perché adesso in inverno non è che vai al mare quindi un po freddo le gang bang poi abbiamo questo ti so che di mio padre l'ha regalato il suo datore di lavoro anche gli regali non so per i dieci anni di lavoro con lui non non so lo uso anch'io ogni tanto bello pulito quadrante davvero spettacolare se bianco cos'è bravo poi poi questo è il primo loggio che mi sono comprato senza sapere niente di orologi non che ora cosa però qualcosa lo so cioè non sapevo esistessero orologi automatici e a carica manuale se pensavo esistessero solo i quarzoni l'ho comprato a caso sono entrato in una in un negozio ho preso questo stesso powermatic 80 quadrante verde gentleman mi pare il suo nome fondello a vista anche se all'epoca mi piaceva adesso non è che sia un movimento così tanto figo poi il pezzo più powermatic è un movimento proletario no per tutti cioè come la 600 negli anni 60 motorizza tutti della possibilità di avere orologi automatici meccanici no precisi e ben fatti un importante della mia collezione eccolo qua a rovescio figura questo omega speed master bravo top troppo bello questo ti ricordi la foto era passa montagna e questo sopra e ti sei chiesto se l'ho tipo rubato una cosa simile no avevi messo la foto del dell'orologio col passa montagna vicino è scritto nuovo arrivato e io gli ho detto 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 è col passa montagna sono buoni tutti a fare la rapina tutto lì tutto la fila così è tipo del trentesimo anniversario questo perché c'è anche delle scritte sotto 21 luglio 1969 e niente con questo e con il mio brutto italiano che non so parlare tutto ci vediamo un prossimo video spero di comprare altri orologi che volevo concentrare la collezione vendere magari un po di cose e concentrarla tutto sugli orologi che sono stati nello spazio non sulla luna perché è stato solamente lui e il bulova per sbaglio ma quelli sono uno spazio visto che sono una ventina più o meno mi pare vabbè ciao 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 sì gli orologi che sono atti nello spazio sono tanti sia in via ufficiale o come product placement no magari sponsorizzati anche ultimamente mi sembra con Elon Musk la sua spedizione c'erano gli orologi sponsorizzati no oppure come orologi privati astronauti che lo hanno indossato di nascosto tra virgolette oppure senza chiedere il permesso senza che sia uno spazio ce ne sono dati in tanti no come 6,6,1,3,9 c'è andato qualche rolex ci sono andati un sacco di roba poi se ti vuoi fare quel filone lì è lecito e anche può essere anche interessante fare la ricerca a un certo punto poi diventa anche complicata perché una volta che hai trovato quei due tre che ce l'hanno tutti che è facile che costano poco poi magari si va sul po più sul pesantino sul più difficile comunque bene perché per il resto tipo dico conviene che vai per questa da lì perché per il resto insomma tutta rumenta come si vuol dire non è che se ne salva si fa fatica lì in mezzo a tutti i ricordini regali regalini del nono del babbo va bene quelli lì ma poi insomma dai sui primi proprio poi obrobriosi potevi anche non farci vedere che ci fai voltare lo stomaco comunque dai prossimo video eccolo ciao ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di contatori del tempo no scherzo eccoci con la mia piccola collezione sono loris da londra e ti seguo sono un fan del canale complimenti vivissimi c'è proprio l'accento di londra e da quando ho iniziato a seguirti e con il nostro amico bull di wall street la passione si è acceso un po di più e quindi ho deciso di inviarti la mia piccola collezione che per subire alcune modifiche anzi aggiunte direi ma bando alle ciance passiamo all'inizio allora il primo pezzo è un pezzo che ti piace tantissimo apple watch no scherzo dai l'ho preso questo solo perché quando uno si allena per fare i passi quelle cavolate lì è utile almeno ti dice anche quando magari giochi a tennis o via dicendo ti dice se vai sotto sforzo o meno ma è solo per quell'uso lì bravo e passiamo ad un classico on swatch o barzon questo l'ho preso perché si abbinava con una camicia e una maglietta che avevo allora ho deciso di prendere all'aeroporto sai l'ho visto ma uno suo accettino ci sta sempre in collezione ecco ma sì ecco qui poi passiamo passiamo con altro quarzon questo secco cronografo ovviamente oggi ho pagato poco tipo sulle 150 euro qualcosa del genere però ci sono molto affezionato perché è stato uno dei primi diciamo qualche anno fa abbiamo fatto le battaglie battaglie batteria insieme e lo uso ogni tanto lo conservo con compassione e affetto un altro quarzon poi 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 passiamo con un altro quarzon svizzero cantino watch e si appunto batteria però è molto carino è stato regalato quindi lo tengo perché legamo affettivo ovviamente c'è anche il tachimetro quello che ha però non è la cassa la cassa un pochino grande quindi non mi fa imbazzire eccolo non lo uso spesso ecco uso ogni tanto quando vado in ufficio ma poca poco utilizzo infatti sto lo decolo tengo giusto giusto per poi passiamo al mio primo automatico questo bellissimo rotary ls come si chiama le original questo ecco swiss made molto molto mentri level di battaglia molto carino la cassa deve essere un 39 diametro cassa semi aperta si vede bene placato ovviamente non è in legacy però funziona bene mantiene bene il tempo e al contrario eccoci qua mantiene bene il tempo fa il suo dovere semi elegante ecco quando lo voglio ogni tanto mettere sotto la massia ma siamo oltre che poi passiamo al mio prossimo automatico che in realtà l'ho comprato dopo aver comprato gli ultimi due pezzi della colazione che ti farò vedere soltanto perché lo stavo consigliando di un mio amico diciamo mi ha chiesto un entry level automatico di qua e di là è questo bellissimo 5 belli e quindi praticamente cercando su amazon c'è un po di graffiettini già ovviamente lo sto utilizzando ogni giorno e cercando su amazon per consigliere da lui mi è piaciuto il quadrante l'ho comprato ovviamente un 37 quindi non mi piace moltissimo come sta perché un bolso abbastanza grande quindi almeno un 39 però dai è carino per quello che ho pagato 140 pound 140 sterlina sui 150 euro quello che 160 euro fa la sua la sua figura poi si era bene va bene mi piace così è solo questo l'abitudine poi ti faccio vedere un'altra cosa che ho comprato nella mia collezione che è questo gazzetto porta orologi winding funziona così ovviamente non li ho tolti te li faccio vedere però è molto molto utile perché così tengo qui ogni due minuti girano e quindi gli orologi ma va sono sempre in movimento passiamo poi con un altro pezzo forte della mia collezione che ho voluto tanto dopo averlo visto sul tuo canale bravo ma il topino da 32 bellissimo sono innamorato di questo orologio è fatto bene che dire niente non abbiamo visto rivisto però sono super contento e poi passo con l'ultimo pezzo diciamo la mia punta di diamante per il momento guardiamola da che è questo bellissimo tutto black bay con la ghiera rossa bracciale giubili bellissimo guarda di uno vero con un movimento mt 5602 u 41 mm e questo mi fa davvero impazzire davvero bello bello sono stato rimasto e sono ancora contento per questo acquisto e niente questo ripeto questo qui l'ho acquistato quest'estate e mi fa mi fa davvero impazzire e ora sto aspettando per il il rolex batman sono in lista tramite tramite un contatto che ho con rolex dovrebbe arrivare mentre fine anno e poi sto pensando magari di togliere questo qui dalla collezione se arrivasse un'offerta un'offerta decente e non so cosa cosa mi cosa mi consiglio su questa collezione cosa aggiungere cosa toglieresti che ne pensi perché avevo provato gli oris ma purtroppo non me ne sono riuscito a far piacere nemmeno uno longin ho provato l'hydroconquest però non mi sta benissimo quindi non so vorrei vorrei aggiungere un diver anche un altro diver magari carino però non so per non andare sul classico submariner cosa mi consigli e inoltre avevo pensato anche ad aggiungere prima o poi il uno dei russo iwc non so ancora quale se quello per noi diciamo un pochino più dress watch o prendere magari un cronografo che a casa molto belli anche e mi piace anche molto si riesco a prendere l'explorer 2 con guadalante bianco molto molto sportivo e carino cosa mi consigli grazie grazie di tutto grazie così grazie ciao 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 cioè di quegli orologi lì di cosa la metà la metà vanno buttati via vanno buttati via da il rotary lo swatch tieni per per collezione va bene gli altri non servono a niente cioè poi c'è l'idea completamente cosa mi suggerisci no perché io vorrei prendere questo poi per questo l'explorer però subano il diver no però oris per un cronografo però iwc c'è c'è le idee confuse come cioè senti un attimino no fatti una tazza di camomilla e ragiona e con calma perché così non si va avanti cioè non io non so cosa cosa consigliarti cosa suggerirti ci sono due milioni di marche due milioni di budget te sei più confuso che mai troppo dito dopo che ti dico un diver che così non c'è nessuno che sei originale lo zrc ti compri uno zrc a scelta intorno ai 23 mila euro quello che costano e con quello lì c'è un signor orologio che si differenzia completamente da tutto il resto diversifichi la collezione sia a livello di marchio che di stile secondo me quello lì va benissimo poi o qualsiasi che ti avessi detto sarebbe andato bene perché c'è i due orologi maris lacroa icon e il black bay e te ne piacciono altri 200 mila va bene tutti a questi punti no io te l'ho detto però quello lì via prossimo video prima che vado in crisi anch'io con questa conclusione un buongiorno davide è un giorno a tutti gli appassionati di segnatempo bello vado dalla malesia malesia qua ragazzi si va nell'internazionale dalla malesia si sente proprio l'accento malese di quello e poi qua invece della tovaglia abbiamo un salto di qualità le copertine dei dischi quasi va dal progressive al psichedelico progressive i weather report c'è jacob pastorius il bassista tanta roba freck zap bene 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 bravo se un intenditore di musica di quella sopraffina diciamo bravo è un video di ringraziamento nei tuoi confronti navide che hai fatto mi hai fatto appassionare a questo bellissimo mondo di orologi non a batteria bravo ma manuale automatici i lavori manuali vanno preservati quindi abbasso le batterie e viva tutto il resto bravo ho preparato un set non è una tovaglia ma c'è qualche qualche qualcuna delle mie passioni dischi sono chi un rocchettaro come te anzi spero di incontrarti una volta che tornerò in italia avremo tanto di cui parlare magari in uno dei ritrovi che organizzi niente con questo bellissimo concerto di zappa che va io presenterei quelli che sono gli orologi che ho acquistato grazie a te grazie a delle ricerche che ho fatto questi sono orologi che mi accompagneranno per tutta la vita non sono un collezionista premetto non sono non mi piace avere tanti orologi voglio avere solo quelli che mi interessano e quelli che mi servono quindi il primo orologio che ho acquistato è un orologio che mi ha colpito non appena l'ho visto di una casa che a te piace molto e a me piace molto e a me gli appassionati dice moltissimo si tratta di un login e un orologio appena uscito si tratta di un cronografo e questo è il nuovo il nuovo non stoppino con quest bello come potete vedere colore blu è fantastico non ho nulla da invidiare ai super inflazionati simi rolex che sono molto molto belli ma insomma con tutta questa storia dell'inflazione eccetera non mi non mi convincono poi ce l'hanno tutti inutile bisogna essere un po fuori un po fuori dal gruppo no se e quindi sono noto per questo bellissimo long in conquest bellissimo bracciale che si sfina mano a mano movimento ovviamente a vista dati tecnici ma ne sai molto più di me posso dirti che montano un età praticamente un l89 85 età a beh non non ho altro da aggiungere se non rimane rimanere ammagliato dalla bellezza portabilità ottima 42 millimetri di cassa e niente fantastico con fantastico bellissimi bellissimi sportivo ma elegante a sita non troppo balchi non troppo balchi non troppo muscoloso ecco e via e si va al prossimo orologio io nel frattempo che parlo immagino le facce che farei tu e i commenti che farai la musica ragazzi la musica in sottofondo è un problema per il video perché vengono bloccati da youtube per i diritti d'autore è già capitato in passato quindi ora qua si è appena sentita io spero non succeda niente ma la musica è un problema non mettetela uno da fastidio due è un problema di copyright molto divertenti mi sa dunque continuiamo con il secondo orologio che ho comperato l'ho comperato per per lavorare io sono uno chef di cucina tempisti che in cucina sono molto importanti quindi sono andato per un tisot un tisot che è un orologio trovato robusto elegante mi ricorda un orologio che indossava mio padre negli anni 70 ovviamente sono un partito degli anni 70 e quindi non potevo che avere un bellissimo tisot PRX niente di più da aggiungere l'avete già visti molti nel canale con queste di prima non l'ho mai visto nel canale bellissimo orologio anche qui il fondello a vista bellissimo una magia gli orologi sono sono una magia sono magici poco da fare mettere insieme questi meccanismi e creare queste opere d'arte è semplice e pura magia non vuole smontarti mi dispiace ma non ci sono gli elfi e gli omini che nella capannetta lassù in svizzera sotto la neve tintin per l'assemblaggio viene anche fatta a mano è però il calibro il tutto ok perfetto dopo questo ti so io direi che potrei passare al prossimo sportivo ed elegante allo stesso tempo e cos'è dopo varie ricerche sono appassionato alla storia di questo personaggio di queste collaborazioni quindi sono andato per un cartier il cartier che ho trovato l'ho trovato per fortuna santos non è facile non è stato facile trovare mi hanno detto mettiamo la fuoco prima mi hanno detto che stanno andando a ruba non solo questo modello in cartier in generale sono secondi solo a dal credo da due o tre anni sono secondi solo a appunto ai rolex a questa non la sapevo stanno andando così a ruba mo perché anche a me incominciano a piacermi anche i cartier con i numeri romani cioè per assurdo e mi scominciano quasi a interessare anche questi nero così non lo avevo mai preso in considerazione ho visto quello con la lunetta di chiamiamola la lunetta blu ok questi questi santos sportivi questo qua con quella nera non l'avevo ancora visto e mi sconfinfera sai mi sconfinfera proprio ora che mi sconfinfera sono quelli che vanno a ruba per secondi così poi magari saranno i prezzi e ce l'abbiamo nel do maggiore anche stavolta qua questo è un cartier credo del 2018 se non erro colore acciaio questo nero grigio che si esposa benissimo con il bracciale citturino allegatore fantastico automatico che dire niente cartier santos meraviglioso meraviglioso numeri romani neanche io sono particolarmente come si può dire non sono innamorato ecco dei numeri romani ma su questo cartier stanno veramente da dio ci stanno bene veramente da dio perfetto io direi che ho terminato bravo sei minuti sono più che abbondanti per te oggi auguro a tutti voi una buonissima giornata da me da frank zappo da tutta la musica a tutti quanti saluti abaci ciao 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 sei minuti per tre orologi dimite c'è chi in sei minuti fa vedere tutta la collezione completa di 150 saranno bastati va bene dai tre belli bellissimi orologi di cui l'ultimo il santos li ho già detto la mia e mi che incomincia a interessarmi anche quello lì ma qua non se ne esce più ogni volta ogni mese che passa si cambia si cambia opinione su un orologio si va ad aggiungere nel carne nel cestone di quelli da poter prendere un giorno aumentano 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 però aumenta anche la spesa niente dai bravo complimenti continua a vivere lì dove vivi in malesia thailandia dove a quei paesi lì strani dove dove avete buono 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 prossimo video ciao davide mi chiamo silvia così tagliamo la silvia coro vivo in nord america circa otto anni nord america abisius oggi puntatone a puntatone internazionale no che c'era uno straniero primo poi questo questo ultimo qua malese thailandese non mi ricordo nord america ebbe che ti seguo sono da poco mi sono da poco appassionato di orologi ora ti faccio vedere il mio primo acquisto questo frederick constant acquisto che ho fatto online durante la pandemia è un tre anni fa un quarzo quindi sfido il temutissimo c'è feca alert ma se la ve ma bello orologio non si vede è tagliato tra l'elegante ed il pacchiano secondo me un orologio così classico no così classico al quarzo non ha senso proprio veramente cioè l'archetipo dell'orologio che fu dagli anni passati del retro vintage e ci metti un quarto dentro me lo spegni proprio pronto spento completamente placcato in oro 14 carati anche placcato non indosso quasi mai e allora che cazzo le pesa fa lo conservo sempre con affetto non ho capito non ho capito passiamo il secondo orologio questo bellissimo mon blank automatico e questo è un orologio che non avevo mai considerato sono appassionato del brand possiedo tanti accessori ma non avevo mai considerato l'acquisto di un orologio fin quando un giorno l'ho visto in una gioielleria ed ho deciso di portarmelo a casa anche considerando il fatto che il prezzo è abbastanza modico considera che per questa cifra ci compri poco più che una penna o un blank comunque orologio che mi piace molto e indosso indosso con piacere è uguale a quell'altro come stile un cronografo retro classico super classico super formale ti piace questo genere qua no con i numeri romani se non sbaglio è un 42 mm e anche 42 va bene passiamo adesso a questo simpatico residuato bellico cronografo swiss orologio che ho comprato quasi per sbaglio senso che me lo sono trovato davanti non ho saputo dire di no è un orologio di cui in realtà non so molto questo marchio credo rappresenti un consorzio di orologiai che produceva orologi popolari non so io vedo la sfera dei secondi continui la sfera dei minuti cronografici che sono differenti va bene così non va bene così non lo so quadrante boh mi sembra veramente strano non so che dirti sarà così sarà buono quel 6 lì come come disegnato l'ha fatto un bambino boh la butto lì e poi non ci capisco niente io a cavallo tra gli anni 40 e gli anni 50 è un orologio c'è il fondo in oro così come la cassa qui dice oro 18 carati per il resto la corona i bottoni e insomma sono bottoni placati in oro anche male sta anche venendo via la allora c'è qualcosa che non so se serve la pena farlo restaurare ottenerlo così come ci meglio lo porterò credo con me in italia lo farò vedere da qualche orologiaio di fiducia poi poi si vedrà comunque orologio abbastanza simpatico sì non so cosa dirti su questo orologio te te lo sei trovato avanti e non hai saputo dire di no ma ci si può andare incontro a degli accrocchioni quando si comprano gli orologi così l'ideale sarebbe studiarlo prima come ho detto mille volte qua non sappiamo niente di come era fatto se la cassa è la sua i pulsanti sono cromati la cassa è d'oro cassa d'oro forza solo un fondello d'oro ma che cosa ne so ci mettono un fondello insomma non sappiamo niente non possiamo dire niente ce l'hai divertiti il prossimo orologio che ti voglio fare vedere questo bellissimo hublò anche se in realtà non è proprio un hublò 100 per cento siamo a posto è in realtà un mdm ok nel senso che da quello che ho potuto leggere se questo orologio è stato prodotto negli anni 80 sotto il marchio mdm e dove hublò rappresentava il modello di orologio da qui ai prossimi due o tre anni il marchio hublò è diventato un marchio vero e proprio e da lì nascono tutti gli blog che conosciamo yes ad oggi questo quindi rappresenta il primo tra virgolette esperimento fatto da questa casa produttrice si vede un orologio molto molto bello molto bene di cui ho anche il cinturino originale che farò a rimontare al più presto rimuovendo questo cinturino in gomma posticcio che avevo fatto mettere nella speranza di poterlo indossare in quanto il suo originale di cauccio era troppo piccolo ma in realtà essendo questo un 36 mm forse 38 36 38 non saprei comunque troppo piccolo per il mio polso non lo riesco veramente perfetto ad indossare con piacere quindi tanto vale riportarlo alle sue condizioni originali orologio che avevo pensato anche di vendere ero stato lì lì per farlo salvo poi tirarmi indietro all'ultimo momento perché in realtà mi piace penso sia un orologio che non venderò non venderò mai è un pezzo di storia dai passiamo adesso all'ultimo orologio nonché il mio preferito questo bellissimo brightling brightling cronomat evolution questo è un orologio che amo molto un orologio di cui mi sono innamorato a prima vista parliamo del 2020 nel pieno della pandemia sempre questa pandemia i negozi di orologi le gioiellerie erano chiuse anche se qui in nord america non abbiamo avuto un lockdown così severo come in italia ma comunque alcune attività commerciali sono rimaste chiuse per un periodo abbastanza lungo mi ero messo d'accordo online con questo commerciante con questo negoziante per incontrarci in una stazione di servizio e fare lì lo scambio l'acquisto di un altro orologio si presenta con questo orologio al polso e io me ne innamoro immediatamente fino a convincerlo a venderlo orologio che amo particolarmente un orologio molto massiccio molto impegnativo 44 milioni ma vista la mia stazza diciamo che sembra più che alle quali si sta bene questo è tutto un caro saluto a te dalla tua community ciao 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 caro amico nord americano si sente proprio l'accento americano no l'accento quello del texas va bene dai belli orologi che soprattutto quest'ultimo qua da 44 mm non l'avevo ancora visto finalmente l'ho visto anche questo nulla da dire quello blu mdm 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 sembra la droga mdm mdm tienlo perché un pezzo di storia tienlo poi il resto per gli orologi il più bello di tutti secondo me il bright in finale quello lì ha fatto il botto prossimo video ciao davide sono ciao già ti ho mandato un video tempo fa fa di tovaglie non ce n'è ragazzi qua giudas priest giudas price priest chiamate un po come vi pare non mi sono mai piaciuti tanto tanto ma i dream theater sono uno dei miei gruppi preferiti e sopra c'è black sabbath garbini anche loro fanno parte degli anni 70 80 fine anni 70 80 i dream theater invece quando anni 2000 patapum 90 2000 patapum tanta roba dream theater tanto due dvd set ora poi mai port noi è tornato a fare il batterista ha lasciato la band ora è tornato vedremo il prossimo disco come sarà bravo 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 ti faccio vedere l'andamento della mia collezione questo io l'avevi visto cambiato il pro master in rinonato simpatico da 040 ma sì che credo ci sta molto meglio ma certo poi nuovo acquisto la nuova linea di pro master o citizen degli anni 70 lo voglio anch'io sto sempre certificato iso dai al degrade già al di grade dei gradi molto carino cassa totalmente satinata ben bracciale bracciale finalmente migliorato migliorato notevolmente maglie piene molto più più robusto un'altra sensazione promosso questo orologio ci piace dopo di che questo levretto bellino il gruppo colpico non so se lo conosci se non conoscerai se se tutti gli effetti un'azienda italiana e quant'è di zaffero quadrante soleil magari non rende non c'è luce ma da sicuro che sotto la luce del sole spettacolare bello bello levretto sì niente fatto bene spero ti sia piaciuta basta al momento è tutto prossimamente comprerò il nuovo citizen serie 8 gmt bravo e andremo avanti così ecco buona giornata buona giornata a te che come sei lo qua ci sei riempito di parole è proprio bla 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 vabbè c'è belli belli è la seconda serie di video consecutiva che vedo il simpatico citizen pro master marine giallo e tra l'altro che mi piace tanto che prima o poi prenderò però io probabilmente lo prenderò quello con il quadrante color ruggine è un po' più scuro dei gradi ruggine e con il gommone intorno per il resto per le bretti dovrebbe essere di produzione attuale quelle bretti fa parte sì di polpico e anzi addirittura polpico che è nata della costa di levretto è proprio se la storia è così comunque belli orologi dai tre tre singoli orologi va bene dal prossimo video ciao davide ciao alessandro da ferrara alessandro complimenti per la tua competenza e poi il pizzico di lunia che metti sempre in ogni recensione vuole mostrarti la mia piccola collezione di orologi vintage partendo da questo lorenz che è un carico manuale ultra piatto 36 mm x 8 di spessore veramente sottile dovrebbe risalire alla fine o metà degli anni sessanta poiché sul fondello vedo stampata questa figura che è questo mino con apposto da testo un orologio che dovrebbe far parte di una campagna pubblicitaria di lorenz dell'epoca che non sbaglio è lorenz cammina con il progresso minghia bulova carica automatica contattario placato oro questo fa parte di una serie di orologi a cui tengo tantissimo perché tutti regalati da mia zia giovanna cui mando un abbraccio zia giovanna e zia giovanna fa parte di quelle persone che migrò in svizzera negli anni sessanta e lavorò per diversi anni in fabbrica bulova appunto a bn e questi questi sono i suoi regali l'orologio anche siamo abbiamo salvato nel negli anni la la fibietta originale che di solito viene persa pur essendo 35 mm che è un po inferiore al mio polso è un orologio cui sfrutto tantissimo devono essere così questi orologi 35 l'altro altro automatico questo di forma ben quadrante non saprei come definirlo anche questo ha un un quadrante molto pulito ha un bracciale estremamente morbido è uno degli orologi cui porto porto spesso perché ha una portabilità incredibile veramente al polso non si sente quasi anche questo mi piace molto anni settanta è proprio pieno 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 sempre bulova ancora questo un cronografo automatico è il calibro 12 della cordata burenauer con micro rotore e reduce da un'importante riparazione revisione poiché il pione calzante era completamente andato smistamento cronografico non funzionante molla del bariletto insomma un'importante revisione ecco anche questo fu donato da mia zia mio padre per il mio primo compleanno quindi qui siamo nel 71 quindi è passati molti anni è un orologio diciamo pesante ma anche qui ha un bracciale estremamente morbido al sol al polso si sente ma non più di tanto ed è uno degli orologi a cui tengo tantissimo e per me è estremamente bello anche in questa colorazione particolare tortora e blu tra l'altro ho provato nel corso degli anni a guardare il polso delle persone che incrociavo ma non ne ho mai visto questo un orologio qui mi piace molto ora la zia giovanna che lavorava in bulova già tre bulova sparati guardiamo se ci saranno altri ma non lo so però il fatto è che è interessante che gli sono capitati tutti orologi interessanti perché un diapason non l'ho ancora visto però vabbè tutti automatici e questo qua l'ultimo questo cronografo io non lo sapevo se lo sapevo non me lo ricordavo se non me lo ricordavo che minchia ne so che il calibro cronografico dell'accordata buren emilton brightlin con lì che ha partecipato alla corsa primo cronografo automatico avesse fosse stato utilizzato anche da bulova non lo sapevo è mea culpa mea culpa io lì per lì quando l'ho visto pensato subito a citizen perché adesso fa parte di citizen quindi è rimasto nel cervelletto qua il discorso 81 11 81 10 invece no è che il primo calibro che tra l'altro è trovato anche qualcuno di competente che trova revisionato che non è proprio cosa semplice cioè bravo altro cronografo philip watts questa volta con a carica manuale dovrebbe essere un età 77 33 o giù di lì anche questo diciamo scala pulsometrica attacchimetrica e un 36 mm diciamo che il quadrante ha una leggibilità pessima ahimè però è l'ho trovato un prezzo erisorio una bancarella e l'ho acquistato anche un po particolare anche per via di queste anse un po particolare bello bello è molto particolare lo indosso qualche volta ogni tanto lo indosso non più di tanto perché dicevo leggibilità non è non è un gran che lo indosso con piacere dai è praticamente un gran bello orologio ora io come al solito quando si vedono gli orologi vintage no soprattutto questi cronografi qua con le scale sul quadrante tante scale affollato ti viene sempre il dubbio ma qualcuno ci ha messo le mani è ristampato quindi noi siamo qua a commentare come se fosse una cosa originale nata così e genuina quindi è bello proprio uno di quei philip watch probabilmente subito dopo il cambio di nome da philippe watch a philip watch comunque bello complimenti per quel orologino lì ultimo ma questo estremamente recente con cui si è parlato è recensito che è tiso prx powermatic 80 è una delle reinterpretazioni a parte di tiso più riuscita credo nel nel corso di questi anni anche questo estremamente portarlo un ottimo orologio certo ti ringrazio grazie a te ciao 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 finito il video era breve anche questo niente ripeto bellissimi orologi tutto improntato sul vintage questo questo videino qua simpatico a lorenz bulova 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 come se non ci fossero domani e poi quel philip watch lì che sto guardando anche ora che non ci vedo niente di strano ma si fa anche presto a dico falsificare ma non è la parola giusta a fare un quadrante no ex novo che magari non a copiarne un altro perché era rovinato perché molto bianco comunque niente da dire dai 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 belli orologi e sei promosso grazie per il video e bu mi sembra di aver detto tutto ragazzi spero vi siano piaciuti i video ognuno con il suo percorso l'ultimo amico qua con tutti i orologi vintage chi invece tutti economici moderni che tutti economici di un certo tipo che tutti di un certo costo è così siamo tutti diversi ognuno c'è proprio percorsivo vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love ciao 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 ciao